Va in archivio la prima gara individuale di questi mondiali maschili, anzi di questi mondiali di biathlon di Ippocliuca del 2021 e va in archivio con una gara veramente ricchissima di sorprese nella sua essenza, ricchissima davvero di colpi di scena perché pensate un po' la Norvegia per la prima volta dopo un anno perché l'ultima volta che la Norvegia non era andata sul podio in una gara in formato sprint era ai mondiali dello scorso anno di Anterselva a vincere Fuloghinov, un russo, davanti a Fillon Maillet secondo e a Marten Fulcada, adesso ritirato terzo Oggi ci sono due francesi sul podio, primo c'è Ponsiluoma che non aveva mai vinto in Coppa del Mondo e si mette al collo l'oro nella gara più importante e ottiene così la sua prima vittoria anche in Coppa del Mondo perché sappiamo che nel biathlon anche le gare dei mondiali danno punti per la Coppa del Mondo Secondo c'è Détieu, terzo c'è Jacqueline, gli altri norvegesi una delusione perché già non vincere la gara sarebbe stata una delusione Non salire sul podio è assolutamente un disastro totale per la Norvegia, un disastro totale perché hanno il primo, il secondo, il terzo e il quarto della classifica generale maschile e quindi non è concepito il fatto che si crolli in questa maniera in questa gara Hanno sbagliato troppo al poligono? È vero, sono voi superiori sugli sci Però l'Hagrid oggi, nonostante lo zero, poi alla fine si è dimostrato più inconsistente di altri sugli sci Mentre Jacqueline per esempio ha fatto una prestazione monstre come l'ha fatta Ponsiluoma Détieu ha fatto un buonissimo ultimo giro E invece veramente gli orvegeti, poi soprattutto Johannes Bo Lui non si può permettere, se poteva forse permettere un errore, chi lo sa Ma due errori, non se li può permettere neanche lui Viene stampato peraltro da Dale nell'ultimo giro di un decimo E Johannes Bo, nonostante la manifesta superiorità su di sci Ancora una volta non vince, ancora una volta non vince il titolo mondiale in questa sprint L'anno scorso non è che fu una campagna così trionfale per il norvegese Ad Hunter Selva e anche quest'anno non inizia nel migliore dei modi Insomma, è vero, l'altro giorno è arrivata la vittoria nella staffetta mista Però non può bastare, ecco, questo bottino per Johannes Bo Che dovrà sicuramente arricchirlo nei prossimi giorni Perché, insomma, sono risposte abbastanza negative quelle date oggi soprattutto al poligono Poi sono gli sci e superiore Però con questo livello al maschile e con queste percentuali di chi va davanti Con questo passo, un livello di competitività incredibile al maschile Nel biathlon maschile non può bastare Non può bastare per Johannes Bo, appunto, sbagliare due volte Ma ci vuole una prestazione solida anche nelle altre componenti E quindi oggi viene beffato e arriva quinto Perché gli altri sono stati superiori a lui Vorrei sottolineare anche un'altra buona prova Quella di Latipov, questo russo che ha fatto i primi due giri veramente sontuosi Da uno dei primi della classe Poi è crollato un po' alla fine Come è crollato un po' alla fine Lukas Hofer Come l'altro giorno è arrivato a tredicesimo Alla fine Lukas comunque non male Ma soprattutto per Didier Biona All'esordio, alla prima gara individuale in un mondiale Questo classe 2000 21 anni, si va a prendere la 21esima posizione nella sprint Zero, veramente straordinaria Didier Biona Ancora una volta Entra nei primi 30 addirittura Sfiora l'ingresso nei primi 20 Veramente un grandissimo, una grandissima prestazione Sontuosa da parte del Valdostano Che anche lui entra in zona punti Come tutti gli italiani Perché è il 26esimo Bormolini È il 32esimo Vindish Quindi tutti qualificati Ovviamente per l'inseguimento Tutti in zona punti Quindi veramente Una buonissima Italia Perché comunque portare quattro atleti in zona punti Non è mai semplice Tutti nei primi 40 appunto Ma soprattutto spicca di Didier Biona Che è il nostro regolaresta Dopo una prestazione un po' così e così L'altro giorno in staffetta Anche per materiali non eccezionali Oggi Oggi ha veramente offerto una prestazione di sostanza Una prestazione di grande qualità Il Valdostano come spesso ha fatto Nell'ultimo periodo Insomma, è una garanzia Fatemi sapere Voi Nei commenti che cosa ne pensate Una valanga di mi piace al video Condividete questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto E a questo punto noi ci salutiamo E ci vediamo Al prossimo video Anche per Riassumere un po' quello che è stato D'Australiano Ma non lo so Potrei riassumerlo domani Oppure lo riassumerò Insomma, nelle prossime ore Con tutte le emozioni Che anche oggi Lo slam australiano Ci ha regalato E a questo punto Arrivederci alla prossima video Grazie Grazie Grazie